Continuano ad essere stabili per alcuni agglomerati urbani i valori rossi per quanto riguarda l'inquinamento dell'aria. È il caso di Avellino Città, dove la media annua dal 1 gennaio al 13 dicembre 2020, determinata grazie al lavoro dell'ARPAC, è di 43 microgrammi al metro cubo, rilevati il valore di inquinamento dalla centralina presente al quinto circolo, ma che interessa tutta l'area territoriale, ed è di 76 microgrammi al metro cubo il valore rilevato presso la scuola d'Antalighieri. Valori molto elevati che fanno di Avellino Città un agglomerato urbano inquinato, causato soprattutto dalle polveri sottili che fuoriescono dai camini e dalle stufe a pellet. Inoltre è da considerare che Avellino Città si trova in una conca poco ventilata. Benevento ha valori normali e non supera la soia e questo è causato all'uso di meno di camini e stufe a pellet. La città di Salerno si trova invece in una situazione ottimale, con un valore al parco mercadello che non supera 29. La città del mare si trova favorita anche per mancanza di stufe a pellet o camini e anche per la presenza della brezza marina. Anche Caserta si trova in una situazione favorevole per l'assenza di stufe a pellet e camini ed è molto distribuito il traffico. Per quanto riguarda i valori di allarme, l'ARPAC ha distinto due aree. La prima riguarderebbe l'agglomerato Napoli-Caserta, dove acera risulterebbe la più inquinata, a causa delle polveri sottili derivanti da camini e stufe a pellet. Le centraline dell'ARPAC hanno rilevato i valori in tre punti della città e come si vince dalla tabella dell'ARPAC 64 e 44. Anche a Pomigliano, Volla e Savitaliano emergono valori rossi di inquinamento molto elevati, determinati dal biossido di azoto, molto traffico soprattutto sulla provinciale che collega Nola con Napoli. La città partenopea si presta molto bene facendo uso di macchine moderne ed ecologiche, in cui il valore rosso si trova solo a Via Argine. Per l'area Napoli-Caserta, ultima notazione riguarda Versa, inquinata con un valore di 59, causato dal biossido di azoto, traffico molto intenso. Per quanto concerne la seconda area, ossia costiera collinare, ad Avellino si aggiunge anche Nocera, essendo chiusa in una conca il cui valore rosso arriva a 58 microgrammi al metro cubo. Quali le soluzioni? Costruire viale alberati, aree verdi, per contrastare l'inquinamento atmosferico. Costruire viale